Stanno arrivando i coches di diverse epoche. Questo Ferrari, per esempio, è molto più joven che il che si vede nel fondo e che non so che coche è. Lancia, creo, per l'escudo che si vede davanti. E' abbastanza antico. O un MG Modelo B. E nota che il volante è nel lato direzione. Original in inglese. E non sarà molto comodo di portare nelle nostre caratteristiche. Se hai che avanti a qualcuno, non so come si accade il asunto. Un Mazda, chiamato Miata o MX-5. Questo, come ti ho detto, è una lancia. Si vede il scudo. Che modello è? Non so. Questo è la decada di luce. 30, 40 anni. Per quel tempo non mi interessava di coche. Non c'era. È del 1933. Lancia Augusta. La Ferrari si va a parcare in un altro che altro sito. E noi speriamo la llegata di altri coche. Diamo un ultimo listaggio. La lancia. Tiene il volante a la derecha. E' anche questo. Per quel tempo. Ani. La decada di 30. Adelantare una voce era totalmente desacostumbrato. Perché aveva pochissimi. E poi, conseguente, già incontrare una voce era assunto raro. Ora lo ha parca. Questo è un 384 watt. Questo è circa un motor di 8 cilindros. E 4 watt con cilindro. Escucha il ruido. Uno dice nel Ford Mustang. Por favor. Nunca hanno escuchato un Ferrari. Non mi ha parlato del Ford Mustang. Por favor. Questo è un motor. E' un'altra cosa. Sì. Sì. Sì.